Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura ai titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Stefano Scaramelli, rieletto vicepresidente del Consiglio regionale. Nuovo cambio di gruppo consigliare in aula. Maurizio Sguanci lascia Italia viva e passa a Forza Italia. Pesca, chieste misure per prevenire il rischio di folgorazione. Aula unanime per la riforma dell'emergenza urgenza. Alla ripresa dei lavori, al termine della pausa estiva, l'aula di Palazzo del Pegaso ha assistito ad alcuni movimenti all'interno dello scacchiere politico. Con 20 preferenze, Stefano Scaramelli è stato rieletto vicepresidente del Consiglio regionale. L'aula si è infatti aperta con la presa d'atto della decadenza dalla carica di vicepresidente di Scaramelli e della relativa elezione suppletiva, a seguito della consistenza numerica del gruppo consigliare d'Italia Viva, che dopo l'uscita di Maurizio Sguanci è rimasto composto da un solo consigliere. Queste le dichiarazioni di Scaramelli dopo la rielezione. Un'elezione non banale né scontata. Essere eletto per tre volte in tre anni, rieletto sempre vicepresidente del Consiglio regionale, per me che rappresento una forza politica come Italia Viva, che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana, è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio, che consolida da una parte l'intesa di governo Partito Democratico Italia Viva a sostegno del Presidente Gianni in Toscana, che dimostra il nostro collocamento nel campo del centro-sinistra in questa regione rispetto a un'azione di governo che prosegue per un impegno assunto con i cittadini che vogliamo portare avanti in maniera leale, coerente e corretta e nello stesso tempo credo ci sia anche un apprezzamento a un lavoro istituzionale che ho svolto in questi tre anni, non soltanto guidando l'Aula, lavorando con il Presidente Mazzeo, lavorando con l'Ufficio di Presidenza sempre portando istanze e proposte nuove, se penso a tutte le leggi fatte sui giovani, sulla cultura, su una serie di iniziative legislative che ho avuto modo di concretizzare. E sulla tenuta della maggioranza il Vicepresidente Scaramelli risponde così. Nel confermare la mia Vicepresidenza, che è la massima carica apicale che uno come me può ricoprire nel Consiglio regionale, denota questo il fatto che c'è voglia di stare con il Partito Democratico e con il Partito Democratico di stare con l'Italia Viva perché c'è un impegno preso con i cittadini. Gli impegni si mantengono, l'impegno è stato assunto nel 2020, noi lo vogliamo portare avanti, ci siamo impegnati nel sostegno del Presidente Gianni e quel sostegno lo porteremo avanti in quelli che sono due anni che poi saranno e più impegnativi. Questo non vuol dire non essere una persona libera, non essere una persona che con la mia intelligenza, con la mia libertà, la mia cultura politica in alcuni casi ha dissentito, in altri casi ha fatto avanzato proposte, ha fatto sempre sentire la propria voce di libertà, ma questo è il campo nel quale io mi riconosco e questo credo che sia un rafforzamento della nostra maggioranza di governo in Toscana. Come anticipato, Maurizio Sguanci ha lasciato il gruppo consigliare di Italia Viva per entrare in Forza Italia. Sguanci è il primo consigliere nella storia del Consiglio regionale della Toscana a passare dalla maggioranza all'opposizione. Io credo che a fronte di fatti oggettivi, di quello che è l'indirizzo, per quello che riguardano le infrastrutture, per quello che riguarda la sicurezza, per quello che riguarda la gestione della città, ma anche nei macrotemi a livello nazionale, per quello che riguarda il job act, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, per quello che riguarda la riforma della giustizia, ci sia molta meno distanza tra Italia Viva e Forza Italia che non tra Italia Viva e il Partito Democratico. Quando si viene via da un partito non c'è mai solo una ragione, le ragioni sono molteplici, non è stato facile, per me è stata una cosa insomma anche dura. Io ho iniziato con Matteo Renzi nel 2008, è stato un percorso per certi versi straordinario, come tutti i percorsi a volte si trova la fine della strada e poi magari invece una strada che ti porta verso un altro territorio non dissimile da quello che stava percorrendo. Alla fine è successo questo. Infatti no, vorrei dire io a questo primato che sono il primo nella storia del Consiglio regionale toscano a passare dalla maggioranza all'opposizione, questo dovrebbe dirla lunga, io peraltro non ho ricevuto nessuna dell'assicurazione dal Presidente Tajani, nessuna offerta, è una responsabilità che mi sono assunto e della quale mi assumo appunto tutte le responsabilità. Questi gli aspetti negativi che Sguanci individua nell'operato della maggioranza. Devo sapere ascoltare più e meglio le persone, cercare di stare sul territorio seguendo le necessità dei territori piuttosto che le dinamiche dei collegi. Il passaggio era stato annunciato già lo scorso luglio ma per la consigliera Elisa Tozzi l'ultima seduta del Consiglio regionale è stata la prima tra i banchi di Fratelli d'Italia. Tozzi aveva iniziato la legislatura eletta con la Lega per poi passare al gruppo misto. Direi che dopo aver trascorso un anno e mezzo nel gruppo misto, quindi insomma aver fatto anche un po' di valutazioni rispetto a quello che poteva essere un percorso politico anche rinnovato pur sempre nell'ambito però del centro-destra e convintamente all'opposizione. Oggi il percorso che scelgo è quello di Fratelli d'Italia, un partito che ha dimostrato di poter essere espressione anche di un mondo che si apre verso vari aspetti, un'apertura al mondo moderato, un'apertura a quello che è il progetto conservatore in vista delle elezioni europee. Un partito che ha dimostrato di essere con la sua Presidente Giorgia Meloni, un partito che può davvero aprire ad una classe dirigente nuova per il Paese. Abbiamo una Presidente del Consiglio che ha dimostrato di essere persona credibile, di essere persona preparata, che ha trovato anche un suo credito in Europa e anche a livello internazionale. Io credo che qui ci siano tutte le premesse per fare un lavoro da un punto di vista di contenuti, da un punto di vista di percorso politico, che può davvero dare un qualcosa in più rispetto a quello che è la proposta che oggi abbiamo sempre visto in Toscana. Io credo che più un partito si apre, più un partito lancia il confronto, più un partito è pronto anche ad affrontare delle sfide con il supporto anche dell'attività di governo, davvero oggi schierarsi e quindi fare una scelta di campo nell'ottica di un 2025 che possa davvero portare al cambiamento del governo regionale. Ecco, io credo che questa sia davvero un'occasione preziosa e quindi ho ritenuto che fosse importante schierarsi e dare il proprio contributo. Anterrò la Vicepresidenza della Commissione Bilancio, quindi la Commissione che si occupa non solo delle materie finanziarie ma che più in generale supervisiona tutti quelli che sono i progetti di legge. Abbiamo tante questioni aperte a partire da quella che è la sfida vera di questa Regione che ho detto più volte, la sfida della crescita. Quindi noi abbiamo un'emergenza vera in questa Regione che è quella di saper destinare bene le risorse disponibili. Non abbiamo avuto modo in questi anni di gestire dal mio punto di vista in modo serio, in modo capace le risorse europee. Molto spesso si è chiamato in causa il governo sulla questione PNRR quando invece il problema vero è che in Toscana non si è saputo gestire in modo coordinato con gli enti locali delle risorse e questo ha determinato anche delle estreme difficoltà da parte degli enti locali. Quindi c'è una gestione da fare in modo molto più accurato, molto più preciso di quello che è stato fatto fino ad oggi. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità con voto favorevole dall'Aula di Palazzo del Pegaso una mozione presentata da numerosi consiglieri del Partito Democratico con la quale si chiede l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di folgorazione dei pescatori in prossimità degli impianti elettrici. L'atto è arrivato tra i banchi dell'Assemblea legislativa toscana a seguito del caso di cronaca accaduto lo scorso giugno nel quale perse la vita a soli 21 anni Gabriele Lusini rimasto folgorato sul torrente archiano mentre stava pescando. Primo firmatario della mozione il capogruppo PD in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli che dopo aver rinnovato la propria vicinanza ai familiari dello studente casentinese ha ricordato come le canne da pesca utilizzate adesso in fibra di carbonio siano ottimi conduttori e quindi presenti in un rischio nel caso in cui rimangano impigliate nelle linee elettriche. Chiediamo che si intervenga presso il gestore dell'infrastruttura elettrica affinché vengano messe delle protezioni, vengano quantomeno messe tutte le indicazioni di attenzionamento perché non ci si avvicina a pescare in questi luoghi fino anche a vietare la pesca nelle more della messa in sicurezza tenendo le distanze di sicurezza proprio per evitare questi fatti. Dobbiamo metterci i soldi per aumentare la sicurezza, i cittadini devono vivere sicuri. La mia assoluta vicinanza ancora una volta alla famiglia a dire Giovanni Capriere. È stata approvata all'unanimità la proposta di risoluzione che si occupa dell'attuazione della riforma del sistema regionale di emergenza territoriale con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato. L'atto è stato illustrato in aula dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. La proposta di risoluzione impegna la Giunta a garantire nel percorso di attuazione del processo legato alla riforma del sistema regionale dell'emergenza la massima condivisione con le associazioni di volontariato sollecitando le aziende sanitarie locali ad adottare modelli omogenei affinché si realizzi lo stesso livello di coinvolgimento sin dalle prime fasi del percorso che porta alla stesura di nuove delibere o atti di indirizzo. Sappiamo che c'è una delibera della Giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale. Finora avevamo una situazione a macchia di leopardo con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo e in un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari soccorritori e basta. Il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la Regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale, dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori necessità A che vengono coinvolte in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza urgenza. B lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, il risorio come 50 centesimi talvolta crea un appesentimento burocratico che si può eliminare e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale e infine il dato dei costi di aggiornare all'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che consiglio oggi a DASA. Allora siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza urgenza. Avevamo appunto chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra Regione. La nostra mozione è stata spostata in Commissione, a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della Regione Toscana e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti e la Commissione, con il Presidente Sostegni che ringrazio, ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in Commissione che oggi in Consiglio regionale. Quindi siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della Pris. Chiediamo, non noi, ma lo chiedono le associazioni e i loro rappresentanti che i rimborsi vengano portati dagli attuali 110 mila euro a ambulanza a 240, che ci sia un unico interlocutore nella Regione Toscana come avviene in altre regioni e che si stimoli appunto i giovani, si stimolino i giovani attraverso azioni di promozione ad avvicinarsi a questo mondo che è veramente basato sul volontariato. Diciamo che è alla luce del volontariato, questo è importante perché la sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe. Per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti, questi gridi di allarme devono essere recepiti, credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortesia e attenzione e ricordarvi che l'appuntamento con cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.